Ha avuto la fretta di dar via la palla, ecco, chiaramente, depositandola nei piedi degli avversari. C'era Brunori che era da solo, poteva gestirla in maniera diversa. Attenzione a Brunori! 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 Destro, retta! Palermo 1, Feralpi Salon 0, Brunori! Il gol del Palermo che ha sfruttato una palla recuperata sull'altro e quarti, ma c'è l'arbitro che sta attendendo forse comunicazioni dalla Bar. Quindi c'è protesta da parte di Giorgione della Feralpi Salon, ma intanto c'è stata tutta la freddezza, tutta la qualità di Brunori nella riconquista di questa palla e di accentrarsi e battere a terra. Sì, vediamo un po' cosa succede, perché Feliciani sta attendendo comunicazioni dal Bar. Sì, ha segnato il gol.